Ah, ma sono proprio fatti i miei. Tu non puoi parlare così a Linda. Li usi. Li usi, già. Tu non puoi parlare così a Li usi. Perché me lo impedisci tu? Senti, solo perché ho il doppio della tua età, moccioso. Non è che non posso spriciolarti quella faccetta di merda. Mmm, vorrei vedere. Ti guarda, tu. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ehi, quando hai un minuto, voglio parlare con te. Allora, chi ha cominciato?